Foreign Service Institute, Italian Familiarization and Short-Term Course Lesson 4 Getting the Local Time Dialogue for Listening Venga, signorina, ho la macchina parcheggiata all'uscita. Benissimo, sono pronta, andiamo! Preferisci andare in albergo o all'ambasciata? Preferisco andare in albergo, sono molto stanca. Da dove arriva lei? Da Washington, signorina? No, da Boston. A proposito, che ora è? Sono le 10.20. Grazie, il mio orologio fa ancora l'ora americana. Ah, che ore sono adesso a Boston? A Boston sono le 4.20 del mattino. Già, è vero. Tra Boston e Roma c'è una differenza di 6 ore. Dialogue for Repetition Venga, signorina, ho la macchina parcheggiata all'uscita. Benissimo, sono pronta, andiamo! Preferisci andare in albergo o all'ambasciata? Preferisco andare in albergo, sono molto stanca. Da dove arriva lei? Da Washington, signorina? No, da Boston. A proposito, che ora è? Sono le 10.20. Grazie, il mio orologio fa ancora l'ora americana. Ah, che ore sono adesso a Boston? A Boston sono le 4.20 del mattino. Già, è vero. Tra Boston e Roma c'è una differenza di 6 ore. Taking it apart. Vocabulary. In, a, a, now, adesso, adesso, hotel, albergo, 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 to the hotel. In albergo, in albergo, to the embassy, all'ambasciata, all'ambasciata, still, ancora, ancora, to arrive. Arrivare. Arrivare. You arrive. He, she, it arrives. Arriva. Arriva. By the way. A proposito. A proposito. Very good. Benissimo. Benissimo. What? Che. Che. What time is it? What time is it? Che ore sono? Che ore sono? From. Da. Da. Where are you arriving from? Da dove arriva lei? Da dove arriva lei? Of. Di. Di. Difference. Differenza. 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 Una differenza. Una differenza. To be there. Esserci. Esserci. There is. C'è. C'è. To make. Do. Fare. Fare. He, she, it makes. Does. Fa. Fa. My watch shows. Il mio orologio fa. Il mio orologio fa. Car. Macchina. Macchina. Morning. Mattino. A.M. Del mattino. Del mattino. Hour. Time. Ora. Ora. American time. L'ora americana. L'ora americana. Watch clock. Orologio. Orologio. Parked. 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 I prefer. Preferisco. Preferisco. Sir. Signore Signore It's 10.20am Sono le 10.20 Sono le 10.20 It's 4.20am Sono le 4.20 Sono le 4.20 Tired Stanco Stanco Between, among Tra True, right Vero Yes, that's right Già, è vero Getting the feel of it Pronunciation practice Benissimo Sono pronta Andiamo Benissimo Sono pronta Andiamo Preferisco Preferisco andare in albergo Sono molto stanca Preferisco andare in albergo Sono molto stanca No, da Boston A proposito Che ora è? No, da Boston A proposito Che ora è? Grazie Il mio orologio Fa ancora l'ora americana Grazie Il mio orologio Fa ancora l'ora americana A Boston Sono le 4.20 Del mattino A Boston Sono le 4.20 Del mattino Working with a language Model 1 Da dove arriva il signor Bianchi? Arriva da Londra Da dove arriva quella valigia? Arriva da Firenze Da dove arriva la signorina? Arriva da Venezia Da dove arrivano Pippo e Lucia? Arrivano da Palermo Da dove arriva questo bagaglio? Arriva da Milano Da dove arrivano i bagagli? Arrivano da Genova Da dove arriva l'autista? Arriva da Napoli Model 2 Sono le 11? No Sono le 11 e 5 Sono le 9? No Sono le 9 e 5 Sono le 7? No Sono le 7 e 5 E l'1? No No E l'1 e 5 Sono le 5? No Sono le 5 e 5 Sono le 4? No Sono le 4 e 5 Sono le 8? No Sono le 8 e 5 E mezzo giorno? No E mezzo giorno e 5 Sono le 3? No Sono le 3 e 5 Sono le 18? No Sono le 18 e 5 Sono le 22? No Sono le 22 e 5 No E mezzanotte? No E mezzanotte e 5 Model 3 Sono le 11? No Sono le 11 e 5 Sono le 9? No Sono le 9 e 5 Sono le 7 e 5 Sono le 7 e 5 No Sono le 7 e 5 E l'1? No E l'1 e 5 Sono le 5? No Sono le 5 e 5 Sono le 4? No Sono le 4? Sono le 4? No Sono le 4 meno 5 Sono le 8? No Sono le 8 meno 5 E mezzo giorno? No E mezzo giorno meno 5 Sono le 3? No Sono le 3 meno 5 Sono le 18? No Sono le 8 meno 5 Sono le 22? No Sono le 22 meno 5 E mezzanotte? No E mezzanotte meno 5 Model 4 Io preferisco andare all'ufficio Cambi E lei? Io preferisco andare all'hotel Noi preferiamo arrivare da Washington E voi? Noi preferiamo arrivare da New York Voi preferite rimanere a Roma E noi? No Voi preferite rimanere a Milano Lui preferisce rimanere un giorno E lei? Lei preferisce rimanere due giorni Io preferisco andare in albergo E lei? Io preferisco andare all'ambasciata Loro preferiscono cambiare 100 dollari E loro? Loro preferiscono cambiare 200 dollari Model 5 Giuseppe è pronto e Marinella? Anche Marinella è pronta Io sono pronta E lei? Anch'io sono pronta Loro sono pronti E le signore? Anche le signore sono pronte Noi tutti siamo pronti E voi? Anche noi siamo pronti Voi siete pronti Ed io e Giulia? Anche voi siete pronte Roberto è pronto E Bruno? Anche Bruno è pronto Giuliana è pronta E Chiara? Anche Chiara è pronta I bagagli sono pronti E i signori? Anche i signori sono pronti Telling time In each row From left to right Number one Che ora è? Sono le cinque Sono le diciassette Number two Che ora è? Sono le sette Meno dieci Sono le sei E cinquanta Sono le diciotto E cinquanta Number three Che ora è? Sono le quattro Sono le quattro E trentacinque Sono le sedici E trentacinque Number four Che ora è? Sono le quattro Sono le dieci Meno venti Sono le ventuno E quaranta Number five Che ora è? È l'una e mezzo Sono le tredici E trenta Number six Che ora è? Sono le sei E un quarto Sono le sei E quindici Sono le diciotto E quindici Number seven Che ora è? Sono le nove E cinque Sono le ventuno E cinque Number eight Che ora è? Sono le otto E venti Sono le venti E venti Number nine Che ora è? Sono le nove Meno un quarto Sono le otto E quarantacinque Sono le otto E tre quarti Sono le venti E quarantacinque Number ten Che ora è? È l'una Meno cinque Sono le dodici E cinquantacinque Number eleven Che ora è? Sono le tre Sono le quindici Number twelve Che ora è? È mezzogiorno E venti Sono le dodici E venti This is the end Of lesson four FSI Italian Fast course Be presto Che ora è? D'essere